La popolare sop opera spagnola Una vita, trasmessa su Canale 5, non smette mai di stupire i suoi fedeli seguaci. A quanto pare nei prossimi episodi italiani, probabilmente a ottobre 2018, una delle protagoniste più amate dello sceneggiato scoprirà di essere il cinque. Si tratta di Rossina Rubio che, dopo aver iniziato ad accusare dei malessere, apprenderà di aspettare un bambino dal marito Liberto Seller che accoglierà con immensa gioia la notizia. La morte di Pablo sconvolge Leonor. Quando sono ritornati alla caccia 38 Liberto e Rossina hanno annunciato alla sarta Susana di essersi sposati. Ovviamente questa unione ha causato scalpore a causa della differenza d'età ma per fortuna in seguito è stata accettata da tutti gli abitanti. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda in Italia tra qualche mese ci rivelano che la figlia della Rubio soffrirà tantissimo a causa di un terribile avvenimento che sconvolgerà il quartiere. In particolare la vita di Leonor sarà stravolta da un violento terremoto che provocherà numerosi morti. Tra le vittime del sisma anche Pablo Blasco, il grande amore della figlia di Rosina. Il giovane perderà la vita dopo aver trascorso varie ore sotto le macerie in seguito al crollo del palazzo di Arturo Valverde. La giovane il dago ritorna da caccia 38, Rosina scopre di essere in dolce artesa. Il fratello di Emanuela perderà la vita alla vigilia della partenza per l'isola di Margarita con la moglie per concedersi il viaggio di nozze tanto sognato e più volte rimandato. Dopo la morte del marito la giovane scrittrice si trasferirà nelle Americhe da sola. Alcune settimane dopo, però, la il dago farà ritorno ad Acaccia 38 e annuncerà a sua madre di non voler più abbandonare il suo paese natale. Nel frattempo Liberto si preoccuperà per lo strano atteggiamento della moglie che continuerà ad avere delle strane nausee. Rosina, a differenza del marito, apparirà piuttosto tranquilla dato che penserà di poter essere in dolce artesa. Per chiarire i suoi dubbi la madre di Leonor si farà visitare da una curatrice chiamata la Valenciana che confermerà le sue ipotesi. La Rubio, dopo aver appreso di aspettare un figlio, inizialmente non dirà nulla al nipote di Susana ma, dopo averlo visto angosciato, gli comunicherà che diventeranno genitori. Inoltre la vedovo di Maximiliano deciderà di non rendere partecipe la figlia della sua gravidanza per non procurarle un'ulteriore preoccupazione.